Fallo innamorare impedendoli di trovarti, fallo cercarti e negagli la presenza. In questo video, cara malgasciona, cara carampana, voglio spiegarti come conquistare un uomo, come far innamorare un uomo. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, seguimi su TikTok e ti ricordo malgasciona di andarti subito a abbonare al canale. Con l'abbonamento base da meno di un caffè al mese potrai partecipare alle live e con l'abbonamento seminari online potrai partecipare ai miei seminari online che faccio messi in mente, quindi vai subito di corsa, caraampana, abbonarti. E allora fallo innamorare impedendoli di trovarti, fallo cercarti e negagli la presenza. Allora se tu vuoi far innamorare un uomo, c'è una regola che devi tenere presente, molto importante e fondamentale, che gli uomini si innamorano se trovano la strada in salita, se trovano un percorso, quindi devi fargli trovare un percorso lungo e duro, perché se non trovano un percorso lungo e duro non riescono a innamorarsi, non riescono a coinvolgersi. E questo è molto importante perché se tu gliela dai subito, apri subito, come possiamo definire uno spiraglio per far sì che possa entrare, e allora non si coinvolgerà, perché non vedrà un ostacolo. Questa è una legge fondamentale che devi tenere presente. Devi però imparare, perché questo è un altro errore che fanno le malgascione, e un errore che fanno le malgascione è quello di mettere dei vincoli logici, cioè di mettere delle condizioni logiche. Il vincolo logico è il canto della morte e della seduzione, è il canto del cine della seduzione, è il bacio della morte e della seduzione, perché il vincolo logico va a scontrarsi contro l'orgoglio di una persona. Cioè se tu gli dici, ah guarda che io non te la do la mia stima e considerazione se tu non mi sposi, per dire, o se non ci fidanziamo, o se questo o se quello, quello dice, col cavolo che me ne frego, ne trovo un'altra che me la dà. la stima e la considerazione e quindi vado a cercare un'altra. Ma se tu non dici niente di tutto questo, però il vincolo lo metti analogico, è la cosa migliore, perché da un punto di vista logico, cioè col ragionamento, lui non deve pensare che il percorso sarà lungo e duro, ma questo lo scoprirà, diciamo, attraverso i tuoi vincoli analogici. I vincoli analogici che sono? Beh, ad esempio impedirti di trovarti, appunto. Cioè nel senso che nel momento in cui tu hai mandato degli stimoli visivi, attraverso foto, attraverso cose, insomma, uditivi, attraverso linguaggio, insomma, quello che è, beh, liberare la voglia in qualche modo di cercarti. Basta che faccia il primo passo poi per creare un, come dire, una crescita, no? E nel momento in cui fai il primo passo, tu, senza dire no, no, qua devi fare questo, no, però ti impedisci di trovarti o questo, o un invito a cena, o un invito qua, o un invito là, sono impegnato su, sono impegnato giù, e poi, diciamo, crei magari anche un po' di effetto hype, che si chiama l'effetto cliffhanger. Magari gli dai l'idea che è fatta quasi, che sei disposto a dargli, e poi, tac, d'emblè, sparisci, perché questo effetto, che si chiama l'effetto cliffhanger, va a produrre, diciamo, hype, va a produrre l'aspettativa, cioè più gli generi l'aspettativa e più gli frustri l'aspettativa, quindi gli generi un sogno infranto, paradossalmente più si coinvolge, perché gli esseri umani sono strani, di fatto, no? Tendono a coinvolgersi talvolta più sul negativo che sul positivo, proprio perché il positivo rappresenta un'emozione comunque gestibile, comunque controllabile, mentre il negativo, invece, rappresenta un'emozione che difficilmente può essere controllata. L'emozione del negativo è un'emozione nascosta, è un'emozione che, come dire, ma negativo non a livello logico, negativo analogico, per cui tu alla fine tieni, tieni in suspense, tiri la corda e più tira, più si coinvolge. Ovviamente la vera abilità della seduttrice è quella di dare degli stimoli, perché per farti cercare devi dargli degli stimoli, quindi devi spingere al massimo sulla tua femminilità, è molto importante che tu spinga al massimo sulla tua femminilità, perché in questo modo, beh, generi delle situazioni molto, molto intriganti, molto, molto interessanti, perché di fatto tieni presente che un uomo, la prima volta che vede una donna, l'unico interesse è quella di tappare il buco, non è che ha altri interessi all'inizio, però. Però successivamente, invece, se tu sai mettere dentro, diciamo, i giusti vincoli logici, analogici, i giusti vincoli emotivi, appunto depistandolo, non facendoti ritrovare, essendo poco disponibile, beh, allora riuscirai a coinvolgere, riuscirai a coinvolgere perché passerà, diciamo, dal, solo da volerlo ficcare, a sentirsi innamorato, dirà, ma questa donna, secondo me, è la donna giusta per me. La parte emotiva gli darà una spinta da dietro, forte, per farlo venire, diciamo, a nuove considerazioni emozionali, no? Inizierà a pensare che puoi essere la persona giusta per lui, inizierà a pensare che sei sicuramente una persona importante, sei sicuramente una persona da amare, e inizierà a farsi dei film, no? Tieni presente che poi magari c'è a tutti anche delle persone a fianco che lo spingono comunque a sistemarsi, magari la sua madre che dice, vero, ormai sei un malgascione, sei quasi carampano, vatti a sistemare, tolti una brava ragazza, no? Ecco, quindi questo è quello che poi se ti identifica, quindi come, anche come la donna giusta, inizierà a innamorarsi sempre di più e inizierà a perdere la testa, inizierà a investire, più investe, più si coinvolge, più si coinvolge, più investe e quindi entri in un ciclo virtuoso per cui di fatto lei si adotta, lei è coinvolta, però devi impedirli prima di trovarti, perché se tu gli rendi la via facile, diciamo, diventerà difficile che lui si possa coinvolgere. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividerlo con i tuoi amici, iscriviti al canale, è gratis, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi su Instagram e su TikTok, Massimo Terramasco, e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, con gli abbonamenti base per partecipare alle fantastiche live, meno di un caffè al mese, l'abbonamento seminario online, per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti!